Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori, addio per sempre in questo video, parliamo di un grave lutto che ha colpito non soltanto Alberto Matano ma in generale tutte le reti RAI e prima di sapere di più vi ricordo che a 400 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video. In questo video parliamo di una perdita in primis per Alberto Matano, uno dei conduttori più apprezzati che si sta confermando una solida realtà alla conduzione della vita in diretta, programma che oramai conduce da ben cinque anni. In questo video parliamo di un grave lutto che ha colpito tra gli altri anche Carlo Conti e in generale dedichiamo questo video a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, tutte le persone poco celebrate. Il primo anno di Marco Liguori con grande dispiacere annuncia la scomparsa di Francesca Frongia, 58 anni, era la make-up artist delle trasmissioni RAI e in questo video con grande dispiacere e mestizia vogliamo parafrasare l'ultimo saluto che Alberto Matano ha fatto all'amica. Sui social network leggiamo insieme il post di Instagram di Alberto Matano Ciao Francesca, qui eravamo a Trieste un paio di anni fa, sei stata e resterai luce. Ora, senza la tua ironia e il tuo sorriso, la sala trucco non sarà più la stessa. Con queste toccanti parole, Alberto Matano ha voluto ricordare un eroe poco celebrato, un personaggio che, come tanti, lavora dietro le quinte. Questo video è dedicato a tutti quanti loro, ricordiamo, Francesca Frongia, make-up artist dei VIP, mancata a soli 58 anni e amici di YouTube. Io vi ringrazio per l'attenzione, ricordandovi che il vostro parere è fondamentale, vi invito a commentare, risponderò personalmente a tutti quanti voi, vi invito a seguirmi anche sul secondo canale di Marco Ligori e sul nuovo canale Marco Ligori, psicologia e crescita personale. Ciao a tutti. Grazie